C'erano meno seminari specialistici, c'erano più seminari accomunanti, proprio perché erano seminari tenuti da luminari, per noi seminari obbligatori, ma non soltanto per gli italianisti, ma anche per gli storici. Erano intanto quelli di Cantimori, il quale era proprio un docente interno della scuola, mentre altri docenti erano incaricati nella scuola, però erano docenti titolari altrove, lui era un docente interno titolare. Quindi il seminario di Cantimori e il seminario di storia era obbligatorio, era obbligatorio il seminario di filologia classica tenuto da Giorgio Pasquali, per noi era una scoperta, scoperta intellettuale, di studio, ma anche scoperta umana. Il tipo era un personaggio, senza altro se andava conosciuto, per la sua estrema disponibilità al dialogo, anzi lui era più capace di dialogo che di insegnamento impartito.